Ciao a tutti, benvenuti nel canale, in questo video voglio svelarvi in anteprima le sfide in italiano della settimana 3, 4 e 5 della stagione 3 di Fortnite capitolo 2. Come vedete le sfide sono queste e sono tra virgolette semplici da completare, comunque vi riporterò come sempre le guide nel canale su come completarle settimana dopo settimana. A partire da questa settimana troverete, o meglio da giovedì se non vado errato, cercaforzieri o scatole di munizioni a Brughiere Brumose, una località molto conosciuta, dovete cercarne 7. 2. Eliminare 3 avversari all'autorità ex agenzia 3. Raccogliere anelli fluttuanti all'ago languido, anche l'ago languido è una località molto nota e dovete raccoglierne 4. 4. Danzare in cima ad una gru a pozzo traballante per uno, quindi ballate lì e fate la sfida. 5. Infliggere danni all'interno di un campo di grano alla fattoria frenetica per 100, quindi vi mettete nel campo di grano e fate 100 di danno. 6. Distruggete auto, quindi due auto, entro 60 secondi dall'atterraggio dal bus a corso commercio, quindi voi vi lanciate dal bus, atterrate a corso commercio e dovete distruggere due auto entro 60 secondi. 6. Atterrare con un cioppa alla base di una ciminiera a foschi fumaioli, molto facile, molto semplice e veloce. 7. Una volta, infliggere danni agli avversari a gatto grill per 200. Queste sono le sfide della terza settimana, passiamo a quelle della quarta, quindi la prossima. 7. Cerca forzieri a borgo bislacco, 7. 8. Elimina a siepi d'agrifoglio tre nemici, raccogli anelli fluttuanti a parco pacifico per 1, completa un giro a massafro in motoscafo per 1, vedremo poi con una guida in cosa consiste. 8. Atterra a fattoria frenetica e finisci tra i migliori 25 per 1, quindi lo dovete fare una sola volta. 9. Raccogli metallo a pozzo traballante per 200, quindi andate a pozzo traballante e raccogliete 200 di metallo. 10. Danza davanti alla telecamera per 10 secondi a sabbie sudate, una sfida molto originale e simpatica, dovete farlo 10 volte. 10. Cerca le scatole di munizioni a foschi fumaioli per 7, queste sono le sfide della quarta settimana. 11. Cerca forzieri a sabbie sudate per 7, eliminazioni a corso commercio per 3, usa il vasetto di lucciole che potete trovare solo di sera o la pistola a razzi a brughiere brumose una sola volta, quindi o questo o questo. 11. Atterra lo yacht e finisci nella top 25 per 1, pesca pesce a scogliere scoscese per 5, potenzia un'arma a borgo bislacco per 1, raccoglie anelli fluttuanti a foschi fumaioli per 1, cerca le scatole di munizioni presso la fortiglia. 12. Queste sono le sfide della settimana 3, 4 e 5 della stagione 3 di Fortnite capitolo 2. 13. Fun Wäh Grazie.